Soldo in tasca ed oltre mezzo chilo di droga nascosta tra l'auto e la cameretta, nei guai sono così finiti due giovani eretini. I ragazzi sono stati notati nella centralissima piazza del popolo dagli agenti della squadra volante della questura di Arezzo, mentre armeggiavano con fare sospetto all'interno dell'auto. Di fatto gli agenti hanno notato che il soggetto seduto sull'autopasseggero contava del denaro, numerose banconote. Notano poi il passaggio di queste banconote in mano all'altro soggetto che era seduto invece sul lato guidatore, che non appena però vede gli agenti avvicinarsi decide di nascondere i soldi sotto la sua gamba destra. A questo punto gli operatori intervengono, fanno una perquisizione personale ai soggetti, nonché al veicolo dove i soggetti appunto si trovavano, e rinvengono una mazza da baseball e due coltelli, nonché i soldi che avevano appunto visto precedentemente. Dato che l'altro soggetto, cioè il soggetto seduto sull'autopasseggeri, era particolarmente nervoso durante il controllo, questo sospettisce ancora di più gli operatori che decidono di effettuare la perquisizione al veicolo del soggetto di cui aveva disponibilità, dato che aveva indosso le chiavi di quest'auto. Fanno questa perquisizione al veicolo che dà esito positivo, poiché rinvengono all'interno dello stesso, vicino al cambio, un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish. È così scattata anche la perquisizione a casa del ragazzo, dove gli agenti hanno trovato all'interno di una cameretta altri quattro panetti di hashish ed un involucro di cellofan trasparente contenente mariguana. Il tutto viene ovviamente sottoposto a sequestro, parliamo di circa 550 grammi di sostanza stupefacente. Per il giovane è scattato l'arresto per spaccio, mentre l'altro ragazzo è stato denunciato perché trovato in possesso di strumenti atti ad offendere ed in concorso con l'amico per il reato connesso alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Noi cerchiamo di essere presenti quanto più possibile, il territorio ce lo chiede, ne ha bisogno e noi facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità e siamo sempre pronti. Non ci fermiamo poi alla prima evidenza del caso, ma andiamo oltre come hanno fatto gli operatori che hanno deciso appunto di andare a casa del soggetto, effettuare una lunga perquisizione che è durata quasi due ore, anche perché non abbiamo grandi strumenti, non avevamo in questo caso i cani e quindi non è neanche così poi facile riuscire a trovare magari della droga ben occultata come in questo caso.